Molto positivo, diciamo che se devo fare un summary per me questo corso è un'importante applicato per mettere insieme molte informazioni. La cosa difficile secondo me è metterli insieme, califunzionale, che per me è stata un po' la chiave di questo corso. E parto di qui tutti i fine settimana con una maggior conoscenza, una maggior consapevolezza e tanta carica. Per accedere a un livello di benessere sempre maggiore. Il grancio è assolutamente positivo, è un'esperienza che mi consente di unire tutte le conoscenze comunque nozionistiche, puntiformi che ho preso dall'università, quindi è un'esperienza assolutamente positivo. Vi voglio far vedere parte di questo bellissimo contesto, siamo al quinto modulo di HMP Academy, questo corso, questa accademia a 360 gradi di benessere, proprio così perché tocchiamo tutti gli argomenti che hanno a che fare in qualche modo con il nostro benessere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!